Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova mod review Oggi siamo qui con una nuova mod, appunto la Lyca Knights Mod La mod che vi ho andato a trattare oggi è molto particolare Perché le feature che aggiunge sono delle feature che molte altre mod hanno trattato Ma il modo nel quale l'ha fatto questa mod mi ha sorpreso Allora, vorrei fare un bel discorso al riguardo Cercherò però di stringermi e di non sprecare troppo tempo Allora, innanzitutto cosa aggiunge questa mod? Questa mod aggiunge mob Mob che possono essere trovati in determinati biomi Il punto è che il modo nel quale è stata fatta questa mod Quindi il modo nel quale sono stati fatti gli script per i vari mob Il modo nel quale sono stati aggiunti, proprio amalgamati nel contesto di Minecraft E' stato fatto in modo fantastico Mi ha veramente sorpreso perché questa cosa non avviene con mod tipo MoCreatures Ad esempio MoCreatures aggiunge tanti mob Però la maggior parte di questi, non so, danno un senso di Come se snaturassero Minecraft Se non c'entrassero niente con Minecraft Anche il modo nel quale sono proprio strutturati i mod come sono fatti Magari sono fatti anche bene Ma danno un senso di Che non c'entra niente con Minecraft Almeno questa è la mia opinione Quello che fa questa mod invece riesce ad amalgamare bene i mob In Minecraft Cioè sostanzialmente se la Mojang prendesse questa mod E la mettesse nel Minecraft Senza dire niente a nessuno Nessuno se ne accorgerebbe, secondo me Quindi adesso direi che possiamo andare a parlare bene di questa mod Non vorrei dilungarmi troppo Preciso soltanto una cosa, allora Questa mod innanzitutto non è completa Non è finita Quindi le feature che, tutti i mob che vi andrò a mostrare oggi Contate che non sono tutti Non sono tutti Cioè ne verranno aggiunti altri Quindi se ci saranno appunto futuri update Sappiate questo insomma Un'altra cosa Un'altra cosa che volevo dire appunto E' che in alto a sinistra Se siete bravi e capite bene l'inglese Ci sarà una carta nel quale sarà Stile Yu-Gi-Oh Nel quale sarà specificato Tutti i drop del mob E cosa fa in particolare il mob Quindi Se parlate bene l'inglese Potete benissimo leggere Potete benissimo leggere la carta E quello è tutto quello che dovete sapere su quel mob Poi se volete vedere In pratica quello che appunto mostro Fate pure insomma Detto questo Partiamo subito con la mod Allora innanzitutto Allora innanzitutto i mob aggiunti Sono stati aggiunti per 3 biomi per ora Ossia per il nether Per la palude E per il deserto Per il nether Ossia per l'inferno Sono stati aggiunti 7 mob Che adesso andremo a vedere Con anche i relativi drop Che fanno cose particolari Per la swamp Ossia la palude 3 mob E per il deserto 5 mob Con anche questi qui relativi drop Allora Adesso andiamo a vedere con calma I mob del nether Il primo mob che andiamo a vedere Appunto è il belf Questo è un mob molto molto semplice E molto molto facile da uccidere Rispetto appunto a quelle che andremo a vedere dopo Perché dico che è molto semplice Nella sostanza È forte Ma soltanto se appunto Lo troviamo in gruppo Perché se dovessimo trovarne uno da solo Ci potrebbe dare un po' di problemi Ma si può gestire facilmente Appunto visto che ha poca vita E appunto non crea troppi problemi Vado a spawnarne uno Il belf di cui stavo parlando appunto è questo E adesso andiamo a vedere appunto Come ci stupra già un pochino Una volta messi in survival Vedete che spara delle palle di fuoco Ricorda molto un po' i mostri di Doom E possiamo vedere che appunto Oh cazzo ho già poca vita Quindi meglio non rischiare un approccio diretto Con il belf Se no ci stupra Ha dato fuoco allo slime Perfetto Adesso cerco magari di Non farmi killare E vi mostro che è abbastanza debole Due colpi è già morto con una spada in diamante Quindi Non è troppo difficile da uccidere I drop Non sono dei migliori Dropperà una Netherworld E appunto Una Doom Fire Charge Che è appunto il nuovo item Aggiunto Quello che vedete qui La Doom Fire Charge Non è altro che una rivisitazione Appunto Della Fire Charge normale Infatti possiamo usarla Allo stesso modo Sia o cliccando Sul terreno Quindi dando fuoco al terreno Oppure Possiamo mettere dentro un dispenser E spararla con appunto Il dispenser E quello che otterremo appunto È una semplice Del semplice fuoco Non c'è molto da sapere Ma non c'è molto di diverso Rispetto alle Fire Charge normali Proseguiamo con il Behemoth Questo mob è veramente molto più ostile Rispetto al Belf Se non già praticamente impossibile da uccidere Questo perché? Perché ha delle particolarità Molto molto più Ostili Rispetto appunto Al Belf Che appunto Bastava tirare gli due spadati Lo uccidevi Questo qua invece Per tirarlo giù Ci devi proprio tirare addosso Non lo so Tutti quanti Boh Non ne ho idea Cioè per uccidere Dovete ci mettete un botto E niente Quindi andiamo a vedere bene Cos'è questo Belf Allora Questo Behemoth Allora il Behemoth Come potete vedere già dall'aspetto Non è amichevole E Il concept del mob è uguale Quindi anche questo Anche questo qui Ci sparerà appunto Palle di fuoco Che però Che però appunto Bruceranno Per più tempo E vedete che anche Hanno un colore diverso Hanno un colore verde E quindi Bruceranno Per più tempo E Il fire spread Ossia La capacità del fuoco Di Sparpagliarsi Se si può dire Di espandersi Ecco E' molto più E' molto di più Rispetto appunto Al fuoco normale Quindi Fate attenzione Perché Potrebbe prendere Velocemente Tutto quanto Il fuoco intorno a voi Guardate che bordello Che sta creando E inoltre Fa molto molto più danno Il fuoco Visto che appunto Dura per più tempo E inoltre Come se non bastasse Per tirarlo giù Sto cazzo di Behemus Ci devi proprio Tirare addosso Tutto Guardate qua Quante spadate Ho dovuto tirare Per tirarlo giù Mamma mia E adesso andiamo a vedere Appunto Che appunto Droppa Come ho detto L'elfire charge E queste Elfire charge Ehm Funzionano Esattamente Come Le altre charge Cioè Non cambia Assolutamente nulla Semplicemente Sono Elfire charge Che appunto Bruciano per di più E fanno più danno Fine Tutto qui Non c'è altro Andiamo adesso A vedere il pinky Un altro mob Molto interessante Che si differenzia In modo sostanziale Da Gli altri due mob Che vi ho mostrato Perché? Perché mentre gli altri Due mob Avevano una funzionalità Diciamo Erano dei semplici mob Che uccidevi E finiva lì Questo mob può anche Essere sfruttato In un certo senso Adesso capirete il perché Ma voglio appunto Proseguire per punti Innanzitutto il pinky È quello che vedete qui Ossia una sorta di cane Se così si può chiamare Un mostro assurdo Che appunto Si comporta anche In modo diverso Ehm Possiamo subito notarlo Visto che Appena mi cambio di game mode Corre subito Più veloce rispetto agli altri E cerca di avvicinarsi E ammazzarci Una sorta di toro Per intenderci Ehm È molto forte Visto che è veloce Ma comunque Può essere benissimo Ehm Allontanare Se si sta attenti Si può benissimo uccidere Senza Incorrere in troppi guai Ehm Se tuttavia Dovessimo trovarci Un gruppo di questi Sarà un Dovrebbe essere Cioè È già più difficile Gestire la cosa Ma Appunto Dipende da situazione Una situazione Ehm Una volta ucciso Ci droppa La Raw Pinky Meat Che Se proviamo appunto A mangiarla Ci da Un effetto negativo Ossia Un debuff Un debuff Appunto Del Wither Quindi non vi consiglio Assolutamente Di mangiarla Perché sennò Appunto Rischiate di Fare questa fine Insomma Non è molto bello Al contrario Invece Se proviamo A cucinare La La Pinky Meat Otteniamo La Cooked Pinky Meat Che Al contrario Appunto Se proviamo a mangiarla Ci da Un minuto di strange Quindi Se dovete proprio Mangiare la Pinky Meat Mangiate la Cooked Pinky Meat Che almeno Vi da Un minuto di strange E può tornare Molto più utile Adesso passiamo Al secondo punto Ossia Il comportamento Di questo mob Appunto Nei confronti Degli altri mob Infatti Questo mob Si comporta In modo particolare Con Le mucche Le pecore E i maiali Se noi proviamo A sponare Adesso Un Un Pinky E sponiamo Delle mucche Potete notare Che questo Pinky Cerca proprio In modo aggressivo Di ucciderle E Vi state chiedendo A cosa serve Dunque Questa funzionetta Del Pinky Semplicemente Se avete Una vostra farm Di maiali Nel quale In modo automatizzato Tipo una trappola Per animali Potete sfruttare Questo Pinky Per Semplicemente Uccidere i mob E quindi farvi Droppare i drop Insomma Potete fare una sorta Di farm automatizzata Di carne Di cibo Quindi Una cosa molto utile Che potrebbe Tornarvi utile E Niente Tutto qua Passiamo ora A un mob Molto molto Più piccolo Ma Altrettanto Letale Sto parlando Dell'appunto Trite Il Trite È una sorta di Insetto Tipo ragno Con una testa Tipo al contrario Potete notare Che è molto veloce C'è saltella Qua e là E questo mob Perché risulta essere Molto forte Perché Adesso provo a mettermi In modalità Surveyori Vi faccio notare Voi stessi Il motivo Innanzitutto Può scalare Le superfici Quindi questo Già lo rende Molto più ostile Rispetto ai mob Normali Può benissimo Scalare Aia 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 Può scalare benissimo Le superfici Quindi come una sorta Di ragno Inoltre È molto veloce E se ci colpisce Ci dà L'effetto Del witter Quindi È molto piccolo Molto difficile Da colpire E Però è anche molto Debole Come avete potuto vedere E Quindi può Essere un Mob che può dare Veramente molto fastidio Specialmente Se si trova In gran numero Perché Se vi trovate Una marea di questi Cavoli di trite Stanno poco A farvi fuori Appunto Passiamo ora A un mob Altrettanto particolare Ossia L'asmondi Che è una sorta Di cervello Attaccato Degli arti meccanici Molto molto interessante Specialmente perché Praticamente per attaccarci Ci spara Dei raggi laser Dei Sì insomma Vedete E Non è troppo difficile Da schivare i suoi colpi Guardate come Con facilità Sto schivando i suoi colpi Però è molto tosto Da tirare giù Quindi Dovremmo per forza O avvicinarci O attaccarlo con delle frecce Quindi non è Non è proprio Facilissimo Da Da Combattere Tuttavia Se Dovessimo Riuscire a combatterlo A ucciderlo Non finisce qui Perché Una volta ucciso Appunto L'asmondi Vengono appunto Rilasciati Dei trite Come avviene appunto Con gli Sma Appunto Appunto Come avviene appunto Con gli slime Il trite Il L'asmondi Alla sua morte Rilascia Tre trite Circa E quindi Insomma Non è proprio finita A cazzo Ne è rilasciata addirittura Cinque Non mi è mai andato Oltre i tre Comunque Potete vedere che Rilascia dei trite E questi trite Sono abbastanza tosti Non è molto facile Ucciderli Di conseguenza È un Mostro che Se evitate È meglio E inoltre Vi droppa anche Una devi star charge Che può essere utile Visto che Le devi star charge Hanno la particolarità Che appunto Una volta utilizzate Non sparano una sola volta Ma più di una volta Quindi Potete fare una sorta di Raffica Storta di mitragliatrice Che viene sparata E quindi Può tornarvi utile Se dovete difendere Tipo la vostra casa Da mostri Insomma Utilizzate le Devi star charge E Fate macello Passiamo ora a un mob Che mi è piaciuto Veramente tanto Sia Il Neter La Neter Soul È una sorta di Teschio volante Che Ci attaccherà Appunto Ci caricherà Ci verrà addosso Quindi è abbastanza difficile Da colpire E inoltre Una volta ucciso Ci esplode Quindi se ci esplode addosso Ci fa danno Quindi fate attenzione A come vi muovete Perché ci carica addosso Velocemente E se ci esplode vicino È un po' un problema Vedete che adesso Mi faccio attaccare appositamente Vedete che fa abbastanza Non fa tantissimo male Ma È abbastanza fastidioso E se dovessimo ucciderlo Bam Esplode Quindi fate attenzione Perché Potrebbe aprirvi il culo E Niente Tutto qua Adesso proseguiamo Con il prossimo Arriviamo ora All'ultimo mob Per il nether Raggiunto Ossia Il cacodemon Nome stranissimo Anche questo Mob volante Vediamo se adesso Riesce a prendere A spiccare il volo E questo è un mob Bastante particolare Perché È un mob normalissimo Quindi Una volta ucciso Non succede nulla Non droppa sempre delle cose Ma non droppa nulla Di particolare La particolarità è appunto Che quando ci attacca Ci attacca in modo stranissimo Ossia tira Una palla di Come si chiama Demonic Demonic Lightning Charge Una Demonic Lightning Charge Che spara appunto De Delle sorte di Scintille Tutto intorno E Insomma È abbastanza pericoloso Quel che basta Per darci fastidio Visto che Se ci beccano Quelle scintille Ci fanno danno Insomma È abbastanza pericoloso Tralasciando poi Le hitbox Sono quelle che sono Ma a parte quello Comunque Fa veramente molto danno Se ci beccano Quindi Fate attenzione Perché Sono molto Molto Forti Una volta uccisi Una volta uccisi Appunto I Cacodemon Cacodemon Si chiamavano Cacodemon Si Cacodemon Si giusto Ehm Ehm Un'altra Cacodemon Vediamo se me lo droppa Se no Se l'ho già Ok non me l'ha droppato Droppano delle Demonic Lightning In charge Che sono appunto Quelle che ha appena Utilizzato il mostro stesso Ossia Quelle che lanciano I varie I varie I varie fasci di luce Quindi Per i mob del Netter E tutto Spostiamoci ora Sui mob della palude Il primo mob della palude Aggiunto È il Gold Zombie Ehm Che ne ha Non bruciarmi Non bruciarmi Non bruciarmi Adesso sponeranno Altre milioni di zombie Ma vabbè Ehm Il primo mob che andiamo a vedere Appunto È il Gold Zombie Che è appunto Funziona quasi uguale A uno zombie normale Ossia Le particolarità di questo zombie Sono il fatto che Corre più veloce Di uno zombie normale Ehm Quando ci colpisce Ci avvelena Ma Ha meno vita Quindi comunque Ha un suo punto debole Che appunto è la vita Però Contate che se ci attaccano Tanti gold zombie Ehm Voglio vedervi poi Quindi Adesso andiamo a vedere Un po' come ci aprono il culo Tutti questi gold zombie Veramente Mi stupreranno Visto che Se mi toccano Mi avvelenano Guardate come Comincia a perdere vita Oh cazzo Si aggiungono pure i zombie Normali Adesso diventa Veramente Una corsa Oh shit Quanta roba c'ho dietro Non è affatto Una cosa bella Avere tutti Oh shit Quanta roba sta arrivando Ok direi che è meglio Abortire Il piano Abort abort Via 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 Quanti cazzo di zombie ci sono Questa cosa è una cosa assurda E niente Quindi queste sono le particolari Di questo zombie Ossia Corre più veloce Ci avvelena E ha meno vita Adesso bruciate tutti Oh oh Ah ah Bruciate tutti infami Bruciate Passiamo ora a un mob Molto interessante Ossia il dweller Questo è un mob Veramente particolare Perché Spawna Nell'acqua Delle paludi E vive Diciamo In acqua Tuttavia Questi mob Quando piove Escono E quindi potete Trovarli anche Normalmente In giro per la palude Se piove Oppure Potete trovarli Qualora Vi stesse inseguendo Sta poco A seguirvi A stuprarvi Tenete conto Che comunque Avete un vantaggio A vostro Avete Una cosa A vostro vantaggio Ossia Questi mostri qui Possono rimanere Sì fuori Fuori dall'acqua Ma non per troppo tempo Quindi Se voi Siete eseguiti Da un grosso numero Di dweller Vi basterà appunto Rimanere Fuori dall'acqua Per un bel po' Di tempo Fare in modo Che vi seguano E moriranno Appunto Per cause naturali Quindi adesso Io magari Mi metto in game of zero Così mi attacca un po' Attaccami Oh no Meglio di no Ho poca vita Tuttavia vi faccio vedere Che muore Senza troppi problemi Visto che È appunto rimasto Troppo fuori dall'acqua Crepa Stronzo Anzi adesso Voglio salvarlo No non ce l'ho fatto Salvarlo mi spiace Potevi vivere invece Invece sei morto Mi ricarico un attimo La vita Così Potion 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 of feeling Dov'è Adesso vi faccio vedere Come Ci stupra Questo Ah non posso Aspettate un secondo Me ne spawno Uno Sono stupido proprio Perché metto game of zero Vedete Aia Mi attacca Mi vuole uccidere Sto stronzo E se io vado a mettergli Una fonte d'acqua sotto i piedi O comunque lo porto in acqua Questo mostro sopravvive Invece che morire Adesso però devi morire Perché sei stronzo Basta E una piccola Chicca Dalla 1.7 Dropperà anche Gli item Droppabili Riguardo al fishing Della 1.7 Quindi Benvenga Insomma una fissura in più Arriviamo ora All'ultimo mob Aggiunto Per le paludi Ossia Lettin Lettin è un mob Enorme Molto molto ostile Che ci aprirà praticamente il culo Perché veramente E Potentissimo Ha tantissima vita Leva tantissimo E inoltre Dovrebbe tipo Distruggere il terreno Se si avvicina troppo Però non lo sta facendo Dai fallo Stronzo di merda Fatemi provare una cosa Perché sto stronzo Dovrebbe distruggere la terra Ma non lo fa Perché è pezzo di merda Dai distruggi la terra No eh Non ti piace la terra Ok ok Ha distrutto lui Quel cubo di terra Penso Presumo Non dovrei averlo distrutto io Comunque Comunque È un mob Molto molto Difficile da uccidere Quindi fate attenzione E Questo è quanto Insomma Passiamo ora ai mob aggiunti Che possono essere trovati Nel deserto Il primo di questi È il Cripe zombie Ossia La mummia La mummia Ha la particolarità di Darci Stanchezza Ossia Fatica Quando ci colpisce E inoltre Non brucia La luce del sole Quindi è una cosa molto carina E Mi piace anche molto La skin Devo dire È veramente molto carina È qualcosa di diverso Spero veramente Che qualcosa del genere Venga aggiunto in minecraft Un giorno Visto che Appunto Mi piace molto la skin Potete notare Che quando mi attacca Mi dà fatica Per circa 6 secondi Insomma E Quando lo uccidiamo Ci droppa Giustamente Rottenflash Arriviamo ora ai Krusk Che non sono Nient'altro che Appunto Una citazione Palese Penso Ai tremors Non fa nient'altro Che nascondere Sottoterra E poi uscire Quando trovano La loro preda E appunto Ci attaccano Molto carina la skin Devo dire Sono anche abbastanza Fastidiosi Però Come potete vedere Sono anche un po' Buggati Non è questo qui Giustamente È anche abbastanza Difficile da creare Un mob del genere Tuttavia È anche abbastanza Difficile da buttare giù Quindi non è troppo facile E Una volta ucciso Ci dà anche Dei premi discreti Insomma Arriviamo ora al penultimo Mob aggiunto Sia il clink Questo è un mob Molto particolare Ma altrettanto Bello Ecco Lo vedete Abbastanza strano Come mob Una sorta di cosa Scimmia robotica Tipo E la particolarità È una cosa Diciamo interessante Il fatto che ci tirerà Delle sorte di Spade E ci attaccherà In questo modo Diciamo È sempre un Mob Ranged Che ci attacca da lontano Ed è anche abbastanza Tosto da tirare giù Cioè Tosto Visto la sua Velocità di attacco Ma vi basterà appunto Avvicinarvi un po' Ah dai Per farlo uccidermi Sto Ammazzato Una volta ucciso Ci dropperà appunto Le Shinty Che sono appunto Quelle cose che sta tirando lui E Questo è quanto Insomma Non c'è molt'altro Da dire Quindi direi che possiamo Passare all'ultimo Mob aggiunto L'ultimo Mob aggiunto È il Joust Ci sono due Tipi di Joust Direi il vero Sarebbero un Mob Però ci sono due Tipi di questo Mob C'è il Joust E il Joust Alpha Il Joust Normale È un Mob Neutro Neutrale Ossia non ci attacca Ma se gli diamo Fastidio Ci stupra Potete vedere che Non mi fa nulla Però se io provo Attaccarlo Vedete che Cambia subito Idea di come Inizio ad attaccarmi E poi abbiamo Il Joust Alpha Che invece è Aggressivo Il Joust Alpha Vuole fare il figo Vuole ucciderci Però in realtà muore E la particolarità Di questi Mob Sono il fatto Che Adesso vedete Adesso spawn E andiamo a prendere Un altro Joust Alpha Vi faccio vedere Se C'è un gruppo Di Joust Mettiamo qua Ci sono 4 Joust E mi metto In metà Zero Ossia in metà Pacifica In metà Survival Vedete che Questi Joust Non mi cagano Minimamente Ma qualora Dovessi spawnare Un Joust Alpha I Joust Normali Praticamente Seguono Quello che fa Il loro Capobranco Se così si può Chiamare Quindi se Il Joust Alpha Mi attacca Anche loro Mi attaccano Vedete che Subito Tutti quanti Mi sono venuti In conto Per stuprarmi Questo perché Il Joust Alpha È presente Quindi Questa è una cosa Che veramente Non ho mai visto In nessuna mod E è qualcosa Di epico Praticamente Perché non ho mai visto Una cosa del genere In nessuna mod Ed è fighissima Come cosa Inoltre Quando uccidiamo Ah se Magari mi metto In game Mod 1 Così non mi uccidono Uccidiamo Sto Joust Alpha Così La smettono Di rompere Le palle Morite tutti È possibile Far riprodurre I Joust Con Con il cactus Con la Diciamo Il colorante Di cactus E vedete Che nasce Un piccolo Joust E niente Tutto qua Un'altra piccola Particolarità È il fatto Che i Joust Droppano La Joust Meat Che se Appunto viene mangiata Ci da slowness Al contrario Invece Se proviamo A cuocerla Quindi A mangiarla cotta Adesso Un attimo Che mi devo bere Il latte Se no qua Se la mangiamo cotta Invece Ci da Speed Adesso Vediamo se riesco Ci da speed Quindi è una cosa Molto interessante Visto che È la stessa cosa Che avviene Diciamo Con Con La Carne di Pinky Quindi Questo era Tutto quello Che c'era da dire Riguardo la mod Non c'è altro Devo dire che Nonostante I mob aggiunti Non siano troppi È veramente molto interessante Come mod Aggiungere parecchia roba E devo dire che Tutto quello che aggiunge Ha un qualcosa di particolare Che la rende interessante Appunto la mod Quindi Vi consiglio di scaricarvela Di scaricare e provarla E vi consiglio di tenere d'occhio La mod Perché È ancora in In sviluppo Quindi non è ancora finita E Lo sviluppatore Ha in mente Di aggiungere Diversi mob Diversi tipi di mob Per vari biomi Quindi Ancora nuove Feature Quindi tenete d'occhio Questa mod E io vi saluto Ci vediamo Alla prossima mod review Vi ricordo che il link È in descrizione Per la mod Quindi se volete Potete scaricarla In descrizione Se avete qualsiasi domanda Chiedete Alla prossima